A partire da domani, venerdì 23 settembre, fino a domenica 25, si terrà la manifestazione Puliamo il Mondo 2016. Tale iniziativa rappresenta il più grande appuntamento di volontariato ambientale al mondo, organizzata da Lega Ambiente, in collaborazione con l'Anci e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'Unione delle Provincie d'Italia. Puliamo il Mondo in occasione non solo per il recupero ambientale di spiagge, fondali, strade, piazze, parchi, ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra istituzioni e cittadini, uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio. Anche il Comune di Agropoli, da diversi anni, partecipa a tale iniziativa, coinvolgendo soprattutto le scuole primarie e secondarie di primo grado e ciò ha permesso di raggiungere obiettivi significativi, sia per quanto riguarda il numero di aree interessate che di volontari impegnati sul campo a favore dell'ambiente. La realizzazione dell'iniziativa sarà coordinata dall'Assessorato all'Ambiente, in collaborazione con il Circolo Locale di Lega Ambiente. Inoltre, un kit pacco misto verrà distribuito a bambini e ragazzi che parteciperanno alla manifestazione. L'evento si inserisce tra le diverse azioni previste dal progetto Bandiera Blu, promosso dall'amministrazione comunale, per il mantenimento del patrimonio ambientale e costiero.